E' un snack Non mi consiglio male Io ho solo il latte Però Non mi consiglio male di comprare E' un culturale Mi ricorso sempre Guarda vita ragazzi Non posso costruire Allora ragazzi Allora come ci restiamo? Ho incazzato Cos'è muocire ragazzi Vediamo che cazzo devo farmi qua Veramente non lo so manco io Buonasera Allora Aspettazione dei veicoli Vediamo un attimo Allora non mi interessa questo Vediamo speciali Allora io c'ho due casse Potremmo da 20.000 dollar Perché mi sto dando quanti cazzo sono Allora questo è il mio magazzino Ah qui Stato lungo Si Ah andiamo a questare questo Si 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 Andiamo a fare questa missione Eh ah che c'ho guardato Sono ancora incazzato Ma perchè sono incazzato? Non ho mai visto le cose Ma ecco Ma ecco C'ho la chiave che sta bene Ahhhhh Eh beh eh eh ovviamente Perfetto Il mio cazzo gli ho togno dov'è? Non mi tipo nada Allora Allora c'è un attimo qua Ragazzi che possiamo vendere Allora c'ho tre casse Ho una cassa per 10.000 dollari Una per 22.000 Una per 30.000 dollari Allora Vendiamo quella per 10.000 dollari Che mi sembra la cosa necessaria 10.000 dollari Si Ma non puoi sull'aereo Mamma mia vecchia Devo fare tre consegne su un aereo Io non so manco guidare gli aereo Io adesso i sbando qua Ragazzi vostri Ciao No Ah Devo prendermi il cadascino Sperava la sua grafie La voglio provare Ad Stain doctor Ma si impenna secondo voi Si impenna Che figata Che figata Che figata però Molto elettrica Che figata ragazzi Vedi questo Che cazzo volete Assalta pure Quella bmx Che figata Che figata Che figata Madonna mia ragazzi Madonna il re Vedi questo ragazzi Due ragazzi da baccarlo 8.000 dollari 8.000 dollari Io c'ho anche il bunker Non c'è successo 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 C'è da vedere Così Bella Non c'è successo Che figata Gia Qui c'è successo Che figata Que figata Qui c'è laidée no vabbè ce l'abbiamo ragazzi ce l'abbiamo ma sono pieno di soldi ma anche di feriti pieno di soldi ma anche di feriti non posso non credo che ne limmino molto vabbè questo qua 3 stelle subito io ho dei celsi di comprarmi coiotti per me costa un bordello che è solo perchè perchè io ho dei celsi di comprarmi coiotti che bella è il suo io non c'è altro non c'è nessuno non c'è nessuno non c'è nessuno non c'è nessuno che ne è nessuno non c'è nessuno non c'è nessuno non c'è nessuno non c'è nessuno e questo è un gestionario e un consultorio di globale e un consultorio di globale avete capito di quanto e sbagliare questi tipo di persone sono? no ma è nessuno non c'è nessuno non c'è nessuno che non c'è nessuno Ah, non mi sembrava di avere un'altra cosa, non mi sembrava di avere un'altra cosa. tanto morto non so al gusto di a che razzo a che razzo pezzi tra non c'è la scelta robinaggia brava, brava, brava bianco ma queste macchine non sono contro noi come questi vanno sti bastardi Sì Vabbè, è navide data È sempre 26.000 dollari Quanto è la tua quantità di 26.000 dollari? Però Gerard, cioè Adesso ci vendiamo una cassa Ci vendiamo solo una cassa Solo una cassa per oggi Poi domande, ci vediamo il resto Questa sono 5 cassa 15, 15, 15, 15 15, 15, 15 Ok, è il giorno di sale Eh, è sempre bisogno di essere da una scossa Alla volta, è tutto bello Vabbè, è stato bello Fai fuori Alla volta, è il giorno di essere da una scossa Oh dove vai adesso? non mi ha messo la violenza puoi ripirare? puoi giocchino Un bordo di roba adesso Un bordo di roba Guardate che con me adesso attacco banda E sincero ci sta Ti piace con me Come delle skimm